Gaia Bianchi e il suo fidanzato Andrea De Marco, si sono già lasciati? Solo qualche giorno fa la coppia ha postato degli scatti mentre erano in vacanza insieme in Sardegna, precisamente in Costa Smeralda. Ma nelle ultime ore sembra proprio esserci stato un allontanamento. Entrambi infatti hanno postato sui loro profili Instagram delle stories che lasciano poco spazio all'immaginazione, vediamole insieme. Gaia scrive, distruggo tutto quello che ho intorno perché non mi fido di nessuno, ma mi auguro comunque qualcuno con tanta pazienza che sappia capirmi e calmarmi. Poi aggiunge quest'altra stories, che fascino gli uomini che danno poca confidenza e rispettano la propria donna senza tradirla nemmeno con uno sguardo, senza dare modo a nessun'altra di poter parlare e dubitare del loro rispetto verso la propria donna. Andrea anche lancia una frecciatina e dice, è un vecchio detto ma è proprio vero, a volte devi fingerti fesso per far vedere fino a dove arrivano le persone o dove pensano di arrivare. Tra l'altro i due hanno anche smesso di seguirsi su Instagram. Secondo voi la loro storia d'amore è davvero giunta al capolinea? Fateci sapere il vostro parere nei commenti e dalla redazione di web per oggi è tutto, noi ci vediamo in un prossimo video.